Il popolismo, secondo me, si vince di questi quattro principi della dottrina sociale della Chiesa. Il rispetto alla dignità della persona umana, il bene comune, la solidarietà e la sussidiarietà. Se noi non capiremo che non possiamo soltanto parlare del bene comune, ma dobbiamo prendere la nostra responsabilità per questo bene, se da noi, da ognuno di noi, dipende tutto, non sapremo contrastare a queste sfide moderne che l'egoismo delle nazioni ci presenta. Io veramente vorrei fare questo appello. Europa, sii unita, sii te stesso, sii cristiano.